Minacciandolo con un coltello a volto coperto, in due si erano introdotti nella sua tabaccheria e avevano rubato circa 5.000 euro in contanti, gratte vinci e altri articoli commerciali per poi allontanarsi velocemente, facendo perdere le proprie tracce a bordo di un'auto guidata da un terzo complice rimasto nel frattempo ad attendere all'esterno per assicurare la via di fuga. I carabinieri della compagnia di San Severo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di tre sanseveresi ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata e danni di una tabaccheria. L'operazione è l'epilogo di articolate indagini avviate in seguito alla denuncia asporta lo scorso mese di luglio dal titolare dell'esercizio commerciale. Sistemi di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici, perquisizioni e sequestri hanno permesso ai carabinieri di identificare i tre arrestati che ora si trovano agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.